E' stato ufficializzato lunedì 1 settembre nella Camera di Commercio di Cuneo l'accordo che porterà la Nazionale Italiana di Ciclismo a svolgere il suo raduno premondiale nella Granda, allenandosi in particolare sulle colline di Langheroero, patrimonio UNESCO. In vista del Mondiale di Ciclismo su strada che si svolgerà a Ponferrada in Spagna dal 20 al 28 settembre, i 50 atleti della Nazionale Italiana, allenati dal CT Davide Cassani e capitanato di Vincenzo Nibali, micitore del recente Tour de France, alloggeranno per 4 giorni l'hotel Cavalier Libra per cui partire in volo per la Spagna dall'aeroporto delle Valdigi. A distanza di 20 anni dalla tragica alluvione del 1994 che distrusse il Basso Piemonte ed in particolare il vasto territorio della provincia di Cuneo, arriva nella fine settimana dal 12 al 14 settembre l'operazione Tanaro Amico 1994-2014 dedicata alla memoria di quegli avvenimenti. L'iniziativa, promossa dalla Regione Piemonte in collaborazione con la provincia di Cuneo e con i comuni coinvolti dell'evento alluvionale, consisterà in una grossa operazione di prevenzione lungo tutta l'astra del fiume Tanaro e in particolare nella zona dell'Albese, Morregalese e Cebano, a cui parteciperanno un migliaio di volontari provenienti da molte località della Granda. La cerimonia conclusiva, prevista a Nucetto per domenica 14 settembre alle ore 11, saranno presenti, oltre ai vertici della Regione Piemonte e all'assessorato regionale competente, tutti i sindaci di allora e di oggi dei comuni alluvionati, così come il presidente della provincia di allora, Giovanni Quaglia, e il commissario di oggi, Giuseppe Rossetto, i rappresentanti della prefettura e le autorità locali. Il negozio Gamma SNC di Via 20 settembre numero 36 a Cuneo, unico rivenditore Apple autorizzato nel capoluogo, ha subito un furto con spaccata nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto. Alcuni mavi eventi hanno forzato la serranda per poi togliere un tombino dalla strada e lanciarlo contro la vetrata dell'esercizio. Mentre suonava l'allarme, i ladri si sono impossessati in pochi secondi di diversi iPad, iPhone e di due portatili esposti in vetrina. Diversi residenti locali li hanno visti dai balconi mentre fuggivano con il ruottino, sul caso indaga la polizia. La mattina di lunedì 1 settembre, intorno alle 7.45, è avvenuto un grave incidente stradale sulla Torino Savone, in prossimità del casello di Fossano. Una donna residente a Volpiano si è schiantata con la protia auto contro il guardrail. La donna non ha riportato ferite ed è rimasta illesa, ma la figlia, di pochi anni, ha riportato un grave trauma cranico dopo aver sfondato con la testa il parabrezza. È immediato l'intervento sul posto della polstrada di Mondovì, oltre che dell'ambulanza del 118, che ha provveduto a trasportare la bambina al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, luogo dove la piccola è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgie. Per causa in fase di accertamento, nel pomeriggio di lunedì 1 settembre, un settantenne di Carrù è stato gravemente ferito in un incidente sul lavoro presso la Isapsal di Frazione Molini di Trinità. Dopo un intervento della medicalizzata del 118, l'uomo è stato trasportato nel soccorso al CTO. Ha riportato l'amputazione delle dita della mano sinistra. Ha riportato l'ambulanza del 118, l'uomo è stato trasportato nel soccorso al CTO.